mi dispiace devo andare il mio posto è la a chi dedicata a questa canzone dei più famosissima e dedicata a romelu lukaku il quale per 130 milioni sarà quasi sicuramente ceduto al celsi praticamente nello spazio di un paio di mesi la juventus non ha fatto acquisti perché caio george è un prospetto e gli altri acquisti non ne ha fatti l'inter ha fatto delle cessioni tra cui l'allenatore conte hachimi e adesso lukaku e nel giro ripeto di pochi mesi con l'arrivo di allegri il gap che si era diciamo colmato con lo scudetto vinto dall'inter l'anno scorso è stato è stato ricostruito c'è un grande solco fra la juve l'inter a mio modo di vedere l'addio di lukaku che darei quasi per certo dalle informazioni che posso aver avuto in questi giorni e anche leggendo perché vedo che c'è molto fermento in casa interista e mi dispiace moltissimo per gli nemici interisti ma sono molto contento ovviamente per noi giuventini è chiaro che noi abbiamo delle grosse chance di vincere lo scudetto perché a me non fa paura nessun'altra squadra che non sia l'inter l'inter aveva raggiunto un equilibrio aveva raggiunto una rosa di grande livello adesso sinceramente l'inter senza lukaku senza conte e senza akimi faccio veramente tanta fatica con zaghi al porto di conte faccio veramente tanta fatica a immaginare che possa vincere lo scudetto in maniera facile o in maniera diciamo semplice come direbbe allegri per cui questa cessione imminente che dovrebbe concretizzarsi a breve di lukaku all'inter per ripianare le casse dell'inter perché forse molti amici dell'inter non hanno capito che sono come si dice dalle mie parti in bolletta quando uno non ha un euro si dice sono in bolletta no l'inter non ha una lira non ha un euro scegliete voi non ha un dollaro non ha uno yang cioè scegliete voi la moneta che preferite non ce l'ha non ce l'ha non ha soldi è sul luogo del fallimento ha chiesto un prestito i prestiti fino a prova contraria si devono restituire prima o poi meglio prima che poi altrimenti poi un casino per cui adesso la juventus può fare un mercato tranquillo voi direte cacchio max adesso però per colpa di fallimento pseudo fallimento dell'inter economico intendo dire e noi adesso cosa facciamo non facciamo la squadra e magari che la juventus se farà un mercato lo farà attingendo a quell'aumento di capitale di cui vi ho parlato tante volte appunto che ci sarà fra settembre ottobre di 400 milioni prendendo diciamo prestito da se stessa come quello che si prende 10 euro dalla tasca sinistra e se li mette nella tasca destra ecco la juve fa una roba del genere ma chiaramente chiaramente il mercato della juventus qualcosa farà se non sarà locatelli sarà sanchez se non sarà sanchez sarà isco se non sarà isco sarà chi cacchio volete voi sicuramente la juventus non avrà uno squadrone per vincere la champions league sicuramente la juventus non sarà ai nastri di partenza una delle favorite vince la champions league ma a volte a volte italia agli europei docet è meglio è meglio non essere sotto i riflettori l'italia lavano tutti per morta lavano per una squadretta io ricordo bartez ricordo viera ricordo linee che che hanno fatto dichiarazioni comiche contro l'italia non arriverete ai quarti verrete eliminati avete solo incontrato squadre facili a a me sembra che l'italia abbia vinto gli europei eliminando belgio eliminando battendo l'inghilterra battendo tutte squadre forti giusto quindi la spagna cioè non so vediamo un po come funziona sta roba non è che con le figurine panini come faceva moratti vinci le coppe dei campioni a volte le coppe dei campioni le vinci con i pesotto le vinci con i veacu di 38 anni con i di livio con i peruzzi le vinci con con i jugovici scarti di altre squadre li vinci con giocatori così con un giovane del piero che nessuno considerava già un fuori classe l'ho diventato proprio in quegli anni per cui bisogna avere molta pazienza come dice il buon allegri calcio è una cosa semplice non dobbiamo mandare i missili sulla luna si può vincere di corto muso e potrebbe andare avanti con le mille citazioni del nostro mister certo è certo è che se il suo posto era di romero lucacu la juventus ha il tappeto rosso spianato verso la conquista di un ennesimo scudetto purtroppo non possiamo dire del decimo consecutivo perché abbiamo saltato grazie voglio ringraziare a fare il proposito andrea pirlo che per aver fatto interrompere una striscia epocale grazie di cuore andrea potevi stare dov'era anziché venire alla juve e e niente insomma quindi adesso noi juventini stiamo alla finestra staremo a vedere come si concluderà questa trattativa del buon ragazzo debano tra l'altro un ragazzone d'oro un ragazzo in gamba un bravissimo ragazzo però capite anche voi che di fronte all'offerta economica e mostre che viene fatta all'inter e anche al giocatore è difficile dire di no zang infatti ha già praticamente deciso di riceverlo anche se malotta in zaghi si sono messi di traverso ma fino a prova contraria se il padrone decide i sudditi devono sottostare scusate se ho usato la parola sudditi però avendo usato la parola padrone mi sembrava il corretto usare la parola sudditi niente signori belli oggi avete visto ho iniziato la lunga serie dei video che farò dringamanti dove andrò a pescare anche gli argomenti clou di altre squadre perché mi sembrava giusto anche non parlare sempre solo della juve a parte che avete visto come ho inserito la juve in questo video nel senso che tutto ciò che verrà definito in un argomento extra juve sarà inserito in un contesto juve ecco perché mi faceva piacere fare il parallelismo no conte akimi lukaku con appunto il fatto che ci non ci sono più e che non da noi non c'è più pirlo ed è arrivato allegri già questo era una condizione diciamo di riequilibrio del gap poi chiaramente se mi si mi vendono i giocatori più forti e va via l'allenatore che ha fatto vincere lo scudetto dopo tantissimi anni all'inter è ovvio è ovvio che la juventus al compito al dovere di vincere lo scudetto quest'anno perché ripeto il milan non mi fa paura la roma meno che meno la lazio non se ne parla neanche e il napoli forse forse ma la rosa è corta e poi spalletti molto molto bravo da arrivare secondo non ha mai vinto uno scudetto magari c'è sempre la prima volta direte voi vedremo vedremo io quest'anno sarò molto curioso di vedere cosa accadrà mi aspetto un campionato complicato con tanta lotta calendario strano perché asimmetrico una juventus che ha un inizio difficile l'inter che ha un inizio facile quindi in teoria anche senza lukaku senza kimi senza conte dovrebbe fare un bottino pieno ma è proprio lì che voglio vedere la mia juve è proprio lì che voglio vedere cosa sarà per fare allegri è proprio lì che voglio vedere quei giocatori che noi abbiamo detto l'anno scorso aspettiamoli i vari culuseschi i vari meccenni lo stesso artur quando tornerà vediamo che cosa faranno se saranno finalmente un valore aggiunto per la juve o se saranno come io penso come io penso giocatori che prima o poi verranno svenduti o ceduti perché non adatti alla juventus caro lukaku è stato bello averti in italia spero che tu ti trovi bene a londra è una bellissima città la chiamano la city quello che ci vivono e niente insomma almeno tu avrai un bel ricordo di milano perché hai vinto uno scudetto nell'unico anno in cui sei stato con la magna nell'azzurra ciao romelu ciao ciao romelu ciao romelu ciao romelu ciao